Ciao amici, buonasera a tutti, amici colleghi, cantanti. Immagino che voi conosciate tutti il dottor Franco Fussi, chi è? Ma come definirlo? Il nostro angelo custode, il nostro angelo delle corde vocali, il nostro salvatore, chi non ha avuto a che fare col dottor Fussi? Beh, io questa sera sono qui a dirvi che c'è una persona al suo pari nella tecnica vocale, cioè è il Fussi della tecnica vocale, chi è Capussin Chiaudani, incredibile, meravigliosa, perché ti dà la cura, riesce a darti la soluzione, la cura, e tu la applichi e canti, e risolvi i tuoi problemi, angelo, bravissima, meravigliosa.